Allora qui abbiamo una protesta della pecora ragazzi, la vittimizzazione continua, il sistema deve creare delle vittime per poi servirle, avere la scusa per scrivere e servirle, ecco qui ci sono le fecole che chiedono addirittura, la reddita di cittadinanza è un diritto, essere serviti come un bambino è un diritto, va esteso, non tagliato. Ragazzi, l'ONU è veramente molto preoccupata perché la polizia inglese è molto molto autoritaria e sapete perché se la prendono? Perché fermano gli animalisti per strada che bloccano il traffico ragazzi, dove sta? Stop oil, Animal Rising, Extinction Rebellion, che poverino bloccano solo un po' il traffico, perché stanno cercando di svegliarci, no? Ecco perché l'ONU è preoccupata, leggi DRACON, DRACONIENE contro il dissenso, il dissenso che non esiste ragazzi, creato da loro stessi. Aiaiai, poveri, no? Ah, meno male che c'è l'ONU. Beh, qui le pecore si sono sfocate un po' dei loro problemi, perché lo siamo al mare qui a Tancone, diciamo. Siccome devo aspettare il secondo treno, ho smesso di prendere il treno veloce perché è un forno proprio dalle radiazioni, quindi prendo questi altri che almeno gli danno la possibilità di... Però ecco, siccome devo aspettare il secondo treno, perché siamo andando sempre dalla nostra pecorella, e cosa faccio, cosa non faccio? Mi chiedono 50 centesimi per pisciare, io sono venuto in una postazione un po' più appartata, io ho lasciato un ricordino come i cani. Qui ci troviamo ad Ancona, ragazzi, che fa un po', diciamo, ventino, fa ventino, non freddino, ventino. Qui non si può dire che siamo vicino a Mario, però quasi, diciamo, ecco, questo è l'Adriatico, bellissimo, come sempre, una perla, e qui c'è niente, c'è un po' di, di sabbia e un po' di mare. Begole, randomly, loro sono fighe, ragazzi, questa è la pego, tutti alleganti, tutti, bellamente, bellissimo, 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 tutti ariani questi, eh? L'Ariano è uno speciale. Beh, l'Ariano ha il sangue speciale, ragazzi, ha un sangue particolare, migliore, molto migliore del nostro, ha delle proprietà col sangue veramente eccezionale qui ci sono ancora i segni della pecora e qui la pecora può sentirsi libera un macchinone si sente figa nonostante ha fatto questo ship oggi ma ship così sono i giocattoli della parola ragazzo per andare al lavoro ottimo parola sempre più intelligente